Salve a tutti ragazzi, oggi proveremo la demo di Kirby Fighter 2, 2, quindi iniziamo Ora adesso direi di fare la... Come stai facendo? Sto giocando a softball. Sto giocando a softball, non vuoi giocare a appiccio. Mmm, vai, devi far vedere come fai molto. Ora lo spacchiamolo un po'. E' la prima volta che gioco con... E' la Nemmo. E' la Nemmo. E' la Nemmo. No. Ma è una demo questa. Bene, si, mancano quattro piani. Vediamo questa pietra. Saliamo ancora. Oh, oh, ma no, la partita è una partita pura. Sì. 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 ora tocca a lui finirlo bene andiamo finita mi mancano due piani bene andiamo qui vai sconfiggiamolo bene ora sconfiggiamo anche questo bene ora si ma nell'ultimo piano bene bene ora l'ultimo piano dobbiamo fare bene no questo è per le bene ma ovviamente è palesemente una copia di kirby clash questo questo kirby fighter bene vediamo che sconfiggiamolo sconfitti grazie 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 No Spero che questo video vi sia piaciuto Spero che questo video su questa demo vi sia piaciuto E ci vediamo con un prossimo video come al solito Alla prossima